Hawkeye episodio finale, scusate ma mi devo ancora riprendere un attimo da quella cringiata che c'è dopo i titoli di coda Wabalabadabab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Serie TV e nella rubrica Marvel Parliamo un'ultima volta di Occhio di Falco, Hawkeye nell'ultimo episodio della prima e credo unica stagione dedicata al supereroe targato Marvel, targato Marvel Cinematic Universe Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che conoscono la vera identità di Kimping e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo episodio Episodio bomba dove finalmente tutti i problemi vengono risolti ma si sapeva, era l'ultimo, non c'erano altre scappatoie era ovvio che tutti i nodi venissero al pettine in questo episodio, alcune cose erano già state chiarite nell'episodio scorso qua vediamo la classica trama in cui i due protagonisti, i due eroi, si leccano le ferite si ricongiungono per affrontare insieme il nemico finale in questo caso il nemico finale è rappresentato dalla madre di Kate Bishop che è la reale villain, diciamo, dietro a tutta questa storia anche se alcune cose francamente non mi tornano molto cioè perché la madre di Kate avrebbe dovuto assoldare proprio una vedova nera o quantomeno che tipo di conoscenze deve avere per riuscire ad assoldare una vedova nera tra l'altro non in maniera diretta ma attraverso la tipa dello shield che abbiamo visto in Falcon and the Winter Soldier è un po' strano come giro, secondo me è una cosa che hanno rattoppato in questa serie per riuscire a mettere dentro Jelena Belova però al di là di questo la madre di Kate pare essere il vero villain tant'è che il suo compagno pare essere dalla parte dei buoni questo Swordsman è un ignaro passante che ha anche aiutato Kate e Clint a combattere i cattivi aiutati anche tutti da questa compagnia di LARP di Vigili del Fuoco, agenti di polizia che sono i più nerd del mondo in questo caso giusto per dare una nota di colore anche a tutto questo e poi si chiude anche finalmente la trama di Echo la trama di Echo di King King che francamente ha la luce anche di come l'hanno trattata dall'inizio alla fine non lo so, cioè è bello aver visto finalmente King Ping il King Ping di Vincent D'Onofrio in questa serie però onestamente hanno davvero sprecato una cartuccia fortissima perché comunque King Ping non si scontra direttamente con Hawkeye si scontra con Maya e si scontra con Kate però con Kate io non sentivo tutto il bisogno di vedere uno scontro tra Kate e King Ping quindi a questo punto tanto valeva tenere King Ping per una stagione futura di Daredevil se la fanno che trattava proprio la trama di Echo e la sua storia tutta la sottotrama di Echo e di King Ping secondo me poteva essere usata diversamente non vorrei che ci sia lo stesso problema che ha avuto Hulk per parecchi anni ovvero che Marvel Studios non possono usare il personaggio di Hulk senza pagare diritti alla Universal e non vorrei che Marvel Studios non possano utilizzare i personaggi delle serie Netflix in delle serie autonome senza dover pagare diritti a Netflix e quindi usano l'escamotage di piazzarli nelle altre serie come è successo con Hulk che è stato piazzato nei film degli Avengers, nel film di Thor ma in realtà non ha un suo film tranne quello del 2008 che è comunque della Universal nonostante sia nel Marvel Cinematic Universe quindi per quanto sono stato contento di vedere settimana scorsa lo stesso giorno entrare a gamba tesa nel Marvel Cinematic Universe sia King Ping che Daredevil o Matt Mardok che dir si voglia mi è sembrato un po' forzata questa sottotrama per quanto mi sia piaciuto vederla è chiaro che è stata messa per fanservice per fanservice e forse per attirare anche qualche curioso in più su questa serie che magari non suscitava le curiosità di molti di molti che hanno visto Hawkeye fin dal primo Avengers e quindi non sentivano il bisogno di una serie tutta sua quindi magari aver introdotto aver fatto sentire la puzza di King Ping avrebbe magari convinto un paio di persone in più a vedere questa serie però direi che le trame semplici che hanno dissipato in queste sei puntate sarebbero state spiegate magari meglio sarebbero state gestite meglio se non ci fosse stata anche la sottotrama di King Ping anche il confronto finale tra Yelena e Clint è un pochino forzato l'hanno davvero risolto in pochissimo tempo avrebbero potuto risolverlo in tutte le sei puntate onestamente togliendo dall'equazione la parte di Echo e King Ping invece l'hanno risolto in questo scontro finale in cui alla fine finisce tutto tra luce e vino per cosa? per far diventare Yelena un'alleata? poteva esserlo benissimo fin dall'inizio quindi non lo so davvero qui hanno cercato di rattoppare della scena post credit quando in realtà probabilmente quando l'hanno girata non sapevano bene a cosa sarebbe servita la chimica tra Kate e Clint è sempre più fantastica ho sentito alcuni dire su internet che il rapporto tra Clint e Kate è come quello tra Tony Stark e Peter Parker no ma manco per niente ma magari fosse stato così magari quel Peter Parker avesse avuto il carattere che ha Kate Bishop in questa serie no assolutamente no il Peter Parker di Tom Holland rapportato a Tony Stark era completamente succube era completamente asservito a Tony Stark lo vedeva come un dio mentre Kate Bishop nonostante ammiri Clint Barton nasconde questa sua ammirazione con dell'arroganza con della sfacciataggine cosa che mi sarei aspettato molto volentieri da Peter Parker nel rapporto con Iron Man invece non l'abbiamo mai vista abbiamo visto sempre un bimbo minchia lo sapete io non ho amato assolutamente Homecoming e invece qui finalmente vedo un bel rapporto tra mentore e allievo come si dovrebbe vedere in una serie Marvel con l'umorismo Marvel l'umorismo dei fumetti Marvel anche il rapporto tra Kate e Yelena è stupendo io vorrò vedere ancora questi due personaggi insieme hanno una chimica migliore anche di quella che c'era tra Natasha e Clint perché comunque saranno le future Natasha e Clint Yelena e Kate di conseguenza il fatto che abbiano stabilito una base di questo rapporto in questa serie mi è piaciuto molto spero davvero di vedere una sorta di non lo so New Avengers con questi personaggi e vedere proseguire il rapporto tra questi due ma parliamo subito dell'elefante pelato nella stanza di Kingpin allora è il Kingpin delle serie TV Netflix non è il Kingpin delle serie TV Netflix chi lo sa non ci è dato ancora a saperlo però sappiamo una cosa gli hanno dato il bastone da passeggio di Kingpin che può essere semplicemente un modo per accostarlo di più al fumetto lo hanno anche fatto vestire di bianco dall'inizio alla fine a differenza della serie Netflix che solo nella terza stagione l'ho fatto vestire di bianco come nei fumetti oltre che il bianco si sa allarga ancora di più la persona e quindi serve anche per farlo sembrare ancora più massiccio di quanto non sia il bastone da passeggio però potrebbe essere anche un risultato del suo ultimo scontro con Daredevil potrebbe aver riportato diciamo non lo so delle ferite il bisogno di appoggiarsi a un bastone quindi potrebbe essere anche questo non lo sappiamo ancora sappiamo che comunque il Kingpin è in attività da un sacco agisce nell'ombra non c'è Wesley perché è stato ucciso nella serie di Daredevil quindi chi lo sa potrebbe essere benissimo quel Kingpin vediamo anche che ha i vestiti antiproiettili esattamente come l'aveva nella serie TV Netflix quindi è probabile che sia davvero lui lo vediamo tra l'altro c'è un momento in cui ha questa strana camicia hawaiiana manica lunga io l'ho interpretata anche come un Kingpin che è tornato da da un lungo viaggio in qualche strana nazione dove non lo possono estradare cioè non possono portarlo dall'altra nazione agli Stati Uniti per poterlo metterlo in galera è già successo anche nei fumetti che Kingpin se ne andasse in qualche stato franco per evitare la galera nel frattempo c'è stato anche il blip di mezzo quindi può darsi che con questo blip Kingpin sia riuscito a ricostruire il suo impero se non è stato blippato e Daredevil invece sì è sicuramente un Kingpin diverso un Kingpin più forte più fantasy rispetto a quello di Daredevil lo vediamo che riesce a scardinare la portiera di un'auto con molta facilità lo vediamo che riesce a sopportare il fatto di essere investito da un'auto di grossa cilindrata e rialzarsi dopo pochi minuti il fatto di riuscire a rialzarsi da un'esplosione di una bomba ravvicinata dopo pochi minuti seppur con qualche graffio quindi è molto più forte di un Kingpin umano è quasi al limite dell'essere un superumano però come alcuni avranno visto alla fine diranno vabbè di che cosa stiamo parlando tanto Maya gli ha sparato in faccia e quindi sarà morto e quindi chi se ne frega quale Kingpin ma è lo abbiamo visto per due minuti tranquilli tranquilli questa serie è tratta anche da parti di un buco dove Maya alla fine scopre proprio che Kingpin è stato colui che ha soldato colui che ha ucciso diciamo il padre di Maya e Maya si vendica in questo modo sparando a Kingpin Kingpin sopravvive nel fumetto diventando cieco qua non si vede dove lo ha colpito forse si sono proprio tenuti questa finestra molto aperta per capire se cosa come utilizzare Kingpin in futuro ma se gli avesse sparato al fianco una bestia così sopravvive lo abbiamo visto ha dei vestiti antiproiettili ma se gli avesse sparato in faccia perché Maya conosce i trucchi di Kingpin potrebbe essere sopravvissuto ma aver perso l'uso della vista e questo lo farebbe diventare diciamo ancora di più l'antitesi di Daredevil in un futuro dove si scontreranno di nuovo parlando appunto di Maya giusto per finire lo scontro tra Maya e il suo sottoposto che poi abbiamo scoperto essere il secondo in comando di Kingpin e non tanto di Maya o del padre di Maya mi ha ricordato molto lo scontro tra lei e Daredevil tanto da appunto farmi pensare anche a questo per farmi dire ma perché non l'abbiamo vista con Daredevil tutto questo perché abbiamo dovuto vedere questo scontro così sentito con un tizio anonimo in tuta non aveva tutto sto carisma però ecco hanno voluto fare questo combattimento in cui lei si è vista costretta diciamo uccidere il suo secondo in comando perché l'aveva tradita nonostante si volessero bene questo mi ha un po' ricordato uno scontro lo scontro con Daredevil che c'è stato nei film il finale mi è piaciuto molto ovviamente un finale natalizio da una serie natalizia non potevo aspettare di meglio il fatto che siano riusciti nella scena d'azione finale a far cadere l'albero del Rockefeller Center è stato spettacolare suppongo sia CGI ma è comunque spettacolare vedere una scena del genere un grande budget che ha permesso una roba del genere e oltre anche al finale, alla scena finale dove Clint porta a casa Pizza Dog che è stato soprannominato Lucky e Kate che purtroppo si è vista costretta a far arrestare sua madre che aveva commesso un omicidio che aveva commissionato un altro omicidio che fortunatamente non è andato a buon fine e quindi fondamentalmente sarebbe stata totalmente sola Natale ha passato le feste di Natale con Clint che ci ha fatto finalmente scoprire a chi apparteneva l'orologio che si era visto nelle puntate scorse a una persona, a un combattente che era fuori dai giochi da molto tempo non si sapeva chi fosse ho pensato anche fosse Capitan America in realtà era sua moglie e questo finalmente ci fa capire come Clint e sua moglie si sono conosciuti la moglie di Clint è un ex agente dello S.H.I.E.L.D. oltre a essere Velma di Scooby-Doo ovviamente bene ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui sicuramente seguiranno un paio di video ancora prima di Natale ma dato che questa è una serie a tema natalizia vi auguro anche qui buon Natale, buone feste, felice Annucca, buon Kwanza a tutti io come sempre con l'inchino, con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video